parchi andiamo al parco è molto soleggiato cosa c'è nel parco ci sono molte piante alberi puoi camminare su un sentiero oppure puoi sederti su una panchina il parco è decorato da sculture e templi ci sono anche molti edifici se ti perdi c'è la segnaletica per aiutarti la scuola è la scuola